Musica Spesso o di fronte a un problema, la cura farmacologica è preferita a quella psicologica. Come mai? Storicamente la medicina è nata molto prima di tanti altri sistemi terapeutici che prevedono, o meglio che non prevedono l'uso di farmaci. Quindi a livello di letteratura molte di più sono state le manifestazioni di cura rispetto a sistemi per lo più non farmacologici. Dobbiamo dire che i sistemi non farmacologici, come ad esempio i percorsi di cura psicologici o psicoterapeutici, prevedono che la persona possa in un certo qual modo mettersi in discussione e voglia quindi superare il problema partendo proprio da riconoscere di averlo. Questo è molto più difficile nel campo della psicologia e della psicoterapia rispetto al campo della medicina. Viviamo ancora oggi secondo uno stereotipo allucinante, secondo il quale chi va dallo psicologo ancora oggi è il classico matto o il classico pazzo da rinchiudere nei manicomi. Niente di più stereotipato, le persone che si rivolgono al giorno d'oggi ad uno specialista in psicologia o in psicoterapia sono persone normalissime, ma che hanno riscontrato come può capitare ad ognuno di noi delle piccolissime difficoltà del quotidiano e che vogliono essere aiutate non farmacologicamente a risolvere questo tipo di problemi. Aggiungiamo a ciò tutte le persone che invece vanno avanti da anni in cure farmacologiche anche decennali e che non hanno ancora oggi risolto proprio il nocciolo del problema. E vanno avanti quindi raccontandosi che questo sistema di cura è quello funzionale per loro, ma gli stessi medici sanno per primi che al di là di malattie per lo più croniche, la terapia farmacologica a lungo termine è spesso non consigliata. Come mai è così difficile mettersi in discussione? E quali sono i consigli che può dare uno psicologo? Paradossalmente viviamo una situazione che prevede due opposti. Le persone che sono continuamente a mettersi in discussione, finendo per non avere più alcuna certezza, e le persone che invece faticano molto a mettersi in discussione. È difficile per tutti mettersi in discussione. Significa, come ho detto anche prima, riconoscere di avere un problema da risolvere. E già per molti purtroppo ancora oggi questo è, come dire, ammettere di non essere a posto, riconoscere di non essere normali come gli altri, ma anche su normalità e anormalità ci sarebbe molto da dire. Diciamo che quello che regna oggi in campo medico e psicologico è preferire pensare che attraverso una pillolina risolverò le mie situazioni e i miei problemi, che spesso possono avere natura non medica, quindi non farmacologica, ma bensì psicologica. e per cui dover riconoscere di aver bisogno di un altro tipo di specialista.